Musica 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 Nell'ambiente underground, club che propongano un party del genere con questa energia, queste special guest e questa voglia di ballare non se ne siano mai visti. La voglia, la passione, l'energia che ci trasmette questo contest e la voglia anche di metterci sempre in competizione contro gli altri. E' bello, è bello, come tutti gli anni, è bellissimo e ancora non siamo entrati nel vivo, però si respira già quest'aria vera in poppara. Si sta bene, è un ambiente veramente dove ci si confronta, dove trovi tanti amici e questo mi fa piacere, ecco, poi in Italia. Un sacco di gente, tanti presenter e lezioni belle, gruppi bravi, l'atmosfera è figa, si sta di brutto. Se vuoi ballare, se vuoi comunque raggiungere un livello, devi fare un percorso e questa è una delle tappe che non si può assolutamente mancare. Ma dal 2003 a oggi ci sono state in tutte le edizioni, con la mia crew e anche da solo. Si sta evolvendo, quindi gente nuova, stimoli nuovi, generi nuovi. Sta cambiando con i tempi, ovviamente. Ciao! Ciao!